ciao a tutti questo è il secondo video che facciamo su una delle mie ottiche preferite che è in particolare la barris xtr pro e voi lo sapete che me in particolare mi sono piaciute molto e ho avuto l'xtr 2 l'xtr 3 l'xtr pro e questa è oggettivamente di un altro livello a parte la luminosità che compete con delle ottiche di altissima fascia e costa ovviamente molto di più rispetto a quanto la quanto possa costare un xtr 2 un xtr 3 c'è dalla differenza principale è che è completamente assemblata disegnata negli stati uniti diciamo che non è costruita fuori con mano d'opera di basso costo siamo che si mette più o meno come la razor hd per quanto riguarda di fascia di prezzo e prestazioni e abbiamo fatto un video recentemente e alcuni mesi fa vi consiglio di guardarlo in cui le mettiamo a confronto anche proprio con la razor hd ma mi è piaciuta per alcuni diciamo così alcune caratteristiche perché a questo livello e ovviamente le cose che poi vai a guardare siccome più o meno la qualità della lente più o meno la qualità costruttiva sono molto alte quindi chiaramente sei a un livello in cui vai a guardare delle cose un po più fini le caratteristiche che mi piacciono sono la leva mazzorata che si può togliere questa maniglia la ritengo molto utile e non fondamentale chiaramente si riesce a fare anche senza con la mano guantata in particolare questi piccoli rombi esagoni disegnati sono molto si riescono a prendere molto facilmente con le mani però sicuramente questa è tutta un'altra storia sono diciamo che a livello di queste ottica qua generalmente da tiro di solito la torretta laterale e ve la giro così è una torretta aperta esposta qui ha la torretta un po più venatoria chiusa cioè con il caps di protezione allora gli svantaggi di questo è che si può perdere io l'ho recentemente perso e grazie a un mio amico che me l'ha ritrovato l'avevo lasciato sul campo non lo trovavo più non succede niente però lo dovete ricomprare e svantaggio vantaggio è che quando voi vi muovete soprattutto se la usate in un ambiente boschivo soprattutto se la utilizzate in in ambienti che non sono il classico tra virgolette poligono con il bancone ma magari state per terra magari vi muovete o fate degli esercizi di tiro rapido come ultimamente si vedono molto fare nei campionati prs quando vi dovete muovere con la carabina magari avete la carabina in mano magari andate su una barricata magari vi buttate sopra un un ostacolo per tirare con quel sopra di quello chiaramente è il la torretta coperta vi permette di avere una protezione è chiaro che se voi dovete fare i movimenti rapidi della torretta di tema come faccio io a coprire la torretta se se poi mi serve è chiaro che la torretta soprattutto in windage e non tutti usano la torretta la maggior parte delle persone compensa con il reticolo se è un reticolo giusto cioè se hai il reticolo per capirsi ad albero e che ti permette di compensare il vento e il vento alle varie distanze spin drift o vento insomma che ti compensa lateralmente chiaramente quindi in questo caso se tu non usi la torretta ma usi il reticolo questa la puoi tenere coperta e sei sicuro di non sbatterci è molto raro sbattere sopra molto frequente a sbattere di fianco almeno a me che uso questo tipo di ottiche anche a caccia non è male avere la torretta coperta e i tiri sono diversi il windage lo uso molto poco e preferisco tenerla coperta per evitare di sbatterci contro soprattutto sul laterale a me piace e altra cosa che mi piace molto delle torrette è la possibilità sulla barris xtr pro è la possibilità di avere questa torretta che vi avevo fatto vedere nel video iniziale ma che vi faccio vedere dopo diversi quasi un anno è un po di utilizzo e questa torretta non è la vera torretta scusate la metto di qua ma è una torretta che voi potete andare a scrivere come avete visto qua ci sono i miei compensi ora di queste se ne possono prendere diverse ma la torretta vera è sotto a due vantaggi primo vantaggio di avere il caps che puoi togliere e che ha i compensi disegnati sopra i compensi sono disegnati da me quindi non sono compensi proprietari o quei quei modi di compensare il tiro che a me non piacciono cioè quale torrette ho scritto 200 metri poi non sai quale palla quale velocità 200 metri generici a me così non mi piace non mi piace ragionare e della serie un po non è una misura quindi mi piace avere il mio compenso della mia palla dopo aver fatto la velocità alla bocca e magari anche il truining della traiettoria questo è bello perché è bianca ed è cancellabile con l'alcol viene via il pennarello ma in più è anche ve la faccio vedere da vicino scusate la mano ok vedete praticamente la metto qua praticamente io posso scrivere con un pennarello i vari compensi alle mie misure quindi so che se devo tirare a 670 metri a 500 metri a 100 metri queste sono tutte le sagome di un campo ma voi potete scriverci le sagome del vostro campo potete avere più torrette con più campi disegnati sopra e questo è veramente ottimo perché io cambio campo prendo la torretta di quel campo ci sono già stato vado con la col compenso della giornata più vicina qua vedete che c'è scritto made in usa qui mentre invece nelle altre c'è scritto o filippine o magari in alcune non la barris ma in alcune altre marche c'è scritto cina quindi il posto dove generalmente fanno le ottiche per ridurre i prezzi è un posto dove la monodopra costa poco quindi voi avete diverse linee questo lo fa anche la vortex avete diverse linee alcune linee quindi non è detto che se voi comprate quella marca sia la stessa qualità d'ottica perché la stessa marca hanno diverse fasce di prezzo perché chiaramente le costruiscono in maniera diversa con componenti diversi e quindi questa è il punto mi è piaciuto molto qui sopra non si vede io ci ho messo dello scotch di quello che si può staccare e riattaccare in modo tale che io non devo tutte le volte fare il cancellare sulla torretta si cancella bene però non si sa mai che a furia di strisciare strisciare con l'alcol venissero via anche i numeri dell'ottica non vengono via ma per non saperne leggere né scrivere e stare dalla follatissima parte dei bottoni ci ho messo una striscia di scotch di nastro qui voi lo fate praticamente spingete di qua e di là in questi tastini neri la fate combattere con lo zero cioè 00 ovviamente ha lo zero stop quindi non sbagliate nel senso che gira solo da un lato dall'altra non gira quindi è per forza lo vero giusto e questo punto voi vedete che se io devo fare un tiro ecco a 353 metri io mi ricordo perché ho il mio compenso disegnato mio compenso ripeto per la mia palla per la mia velocità la bocca verificato e quindi sono sono abbastanza contento devo soltanto aggiustarla per le condizioni atmosferiche ma se avrò fatto delle range card per diversi periodi magari riesco anche ad andare alla range card di di corrispondente periodo che più o meno può essere simile per quanto riguarda la stagione e ricordatevi che chiaramente i compensi scritti sulla torretta non sono compensi precisi al millimetro sono compensi per tiri rapidi perché come vi ho appena accennato se voi avete scritto dei compensi come me adesso in una giornata a 5 gradi con vento un metro al secondo con una certa umidità una certa pressione e chiaramente questi compensi non rispecchieranno gli stessi compensi che avrete nella giornata in cui siete diversa magari è stato 30 gradi non tira vento e fa e fa un caldo tantissimo caldo e l'umidità è completamente diversa però chiaramente non saranno se io vado a 353 23 click in app non saranno 32 saranno 25 saranno 24 se avete la sagoma che mi permette tipo 12 pollici e chiaramente vi potrà permettere un alzo è diverso nel video che vi permette scusate avrete un altro diverso ma vi permette un ingaggio rapido lo stesso cioè siete in piastra detta in poche parole chiaramente io quelli rapidi qui li ho disegnati per tiri fino a supersonico questo perché sul subsonico quindi io sono arrivato a 705 sul 308 e perché nelle piastre più lontano non ho voluto scrivere dei compensi rapidi in quanto è diciamo devo essere più preciso per tirare in zona transonica o comunque in zona diciamo vicino alla velocità del suono e vedrete un video in cui ve lo spiego due parole in cui praticamente ho voluto ingazzare le sagome al primo colpo cosa vuol dire il primo colpo chiaramente il primo colpo sarà cold board cioè la canna fredda sarà solo il primo colpo della giornata poi tutti gli altri sono colpi a canna calda nel senso che ho già sparato ogni sagoma è il primo ingaggio cioè non ho voluto apposta tirare dieci colpi a una sagoma e poi fare il colpo in cui lo prendo cioè ho voluto fare un colpo per ogni un colpo per ogni sagoma chiaramente è una giornata in cui mi è andata particolarmente bene ho avuto molta fortuna e o è una giornata in cui avevo le range card col che corrispondevano quindi avevo già dei compensi che in altre giornate avevo fatto avevo una traiettoria verificata quindi avevo fatto tra virgolette molti compiti a casa prima di quell'evento voglio dire semplicemente che non è che uno almeno io la maggior parte delle volte non riesco a fare sempre primo colpo in tutte le in nella maggior parte delle sagome che avete visto e poi vedete anche che tengo apposta le sa proprio per fare una giornata di primi colpi in cui andare a casa in cui la maggior parte li porti a li porti li porti a casa scusate la ripetizione e volevo ho tenuto apposta le sagome basse cioè non ho tirato a sette ottocento novecento metri ma ho fatto un primo colpo per verificare la traiettoria in tutte le sagome che avevo vicino nelle più piccole che c'erano sul campo e generalmente credo e vado non perché le ho misurate col metro ma le ho misurate con il reticolo milliradiante e dovrebbero venire circa 15 centimetri tra i 15 e i 17 centimetri e chiaramente la mano mi balla quindi non riesco a essere estremamente preciso sul centimetro però più o meno questa è la dimensione delle sagome ok vi ringrazio e ovviamente l'ottica l'ho montata e l'avete visto dal video è su un contessa monolitico a sgancio rapido io ho veramente mi sono veramente trovato bene con questi attacchi e c'è la bolla integrata io uso la bolla tantissimo ovviamente e no è la bolla integrata è una furbata non è la più comoda se voi avete la bolla qui attaccata ovviamente come bolla esterna e riuscite a rimanere meglio in mira mentre invece se dovete guardare la bolla sotto dovete sempre cambiare l'occhio chiaramente per esempio io non ho comprato una bolla per ogni cara una voglia esterna che è più o meno 50 tra gli 50 e 80 euro per ogni carabina in più perché ho già la bolla lì è un piccolo risparmio alla fine mi costa poco guardarci comprerò sicuramente piano piano bolle per ogni ottica così come l'inclinometro che non ho e quindi mi tocca farlo tutte le volte col cellulare perdendo tra virgolette l'impostazione del tiro cosa non bella però insomma questo è un attacco con cui mi sono trovato molto bene molti mi hanno chiesto perché uso gli sgancio rapido in luogo del fisso il fisso è molto più fisso scusate il gioco di parole lo sgancio rapido a me serve perché provo tante ottiche e in questo ci sono dei video guardateli che abbiamo fatto noi sgancio rapido per toglierlo e rimetterlo soprattutto l'ultima serie con stili insert con diciamo la parte in azzaio che morde la slitta slitta che tra l'altro è un'inclinata ventimo a contessa anche questa e ha veramente una ripetibilità dello zero anche a lunga distanza che mi ha soddisfatto tantissimo in particolare abbiamo fatto la prova su carta con una r che non sono noti per per essere precisissimi e guardatelo perché abbiamo sparato un colpo ogni volta che abbiamo tolto tolto rimesso sparato tolto rimesso sparato tolto rimesso sparato che vado a memoria dovrebbero esserci 30 ripresi 50 colpi sparati perché mi era morta la l'ottica e fa un foro solo a 50 metri una r in due 23 ma non un fa un buco solo ed è veramente impressionante poi per verificare l'abbiamo fatto a 100 metri a 300 metri a 500 metri e anche a mille metri con sempre con il 310 estermagno visto che le prove erano andate bene ho preso tutti questi attacchi qui perché riesco a cambiare le ottiche senza dovermi preoccupare che shiftano lo zero e sono molto contento l'ultima cosa la campana e gli ingrandimenti l'avete visto anche nel video di presentazione ha una campana molto più grande del generale del... cioè è una campana da 56 quindi è più luminosa rispetto alle normali ottiche a cui ero abituato io da 50 e ha un ingrandimento 30x che io non uso tantissimo non sono un gran fanatico degli ingrandimenti alti e la volta che devi andare su carta alla lunga distanza ti aiutano quella volta lì se non altro peraltro non la uso l'ho usata nel video per fare appunto la misurazione in mille quello sì perché avevo il mille più grandi da ultimo mi ero dimenticato colgo l'occasione per ringraziare e tantissimo nell'armeria ceccoli che mi aiuta sempre e ci dà gli spazi per registrare i nostri video e in particolare questo giro anche degli amici che mi hanno aiutato davvero tanto per migliorare soprattutto dal punto di vista della mia personale formazione e alcune cose di questo video le ho modificate proprio dopo alcune chiacchierate, lezioni e studi che abbiamo fatto insieme e per me sono state veramente utili anche perché così posso essere sempre più preciso e darvi delle informazioni migliori ma anche perché posso crescere in questo ambito sportivo che poi è il tiro lunga distanza grazie, alla prossima